C'era una volta una madre vedova con i suoi tre figli. La prima lavorava come panettiera, la seconda lavorava come sarta in centro paese e il terzo figlio, Peppi, era così stupido, ma così stupido, che non trovava lavoro o lo perdeva in un giorno. Madre, disse Peppi, sapete che vi dico? Io me ne vado, sperso per il mondo. La madre non lo prese sul serio e in un attimo Peppi era sparito. Non poteva fare molto strada con il cervello che aveva, eppure andò parecchio lontano. Ma era così stupido, ma così stupido, che non riuscì più a tornare indietro. Bussò ad ogni porta, implorando di poter lavorare, ma uno e uno solo decise di assumerlo. Era un grasso boaro che, come tutti i boari, teneva i buoi. Sì, Peppi, senti qua, senti qua. Tu, la mattina, vai coi buoi, hai capito? Vai coi buoi e controlli che non scappino dal gregge, hai capito Peppi? E la sera torni qui con tutti i buoi. E se ci sono tutti, allora hai pane e ricotta, ti sta bene? Sì, disse Peppi. Ma attento, disse il boaro, io non ti darò denaro, solo un tetto sulla testa e il pane sulla tavola. Sì, disse Peppi. E così iniziò la sua vita da boaro, portando avanti e indietro il gregge dal pascolo. Passarono le settimane, e Peppi tornò dal pascolo tutto triste. E il grasso boaro gli chiese, Peppi, oh, che hai? Niente. E dopo un attimo ancora, Peppi, oh, che hai? Niente. Niente, Peppi. C'è che non ho un soldo da parte, non posso andare via di qui. Peppi, era questo il patto. Tu porti i buoi, io ti faccio mangiare. Non ce li ho i soldi per te. Non so cosa dirti. E la vita per Peppi continuò ad essere la solita noia. Ehi, ehi, disse un bue. Cosa? Chi parla? Ehi, qua giù, sono il bue, quello vecchio! Mi vedi? Peppi era confuso. Ciao? Come ti chiami? Sì. Cosa? Scusa, ma tu come fai a parlare? Come ti chiami? Peppi, ma tu parlavi anche prima? Peppi, senti, dobbiamo scappare. Peppi? Peppi? Mi stai ascoltando? Scappare, sì. Ma parlano anche gli altri buoi? Allora, Peppi, stasera devi dire al buaro che vuoi portarmi via con te. Tanto lui non mi vuole. Hai capito, Peppi? E così Peppi andò dal buaro. Signor buaro! Che c'è? Il bue mi ha detto di scappare. Cosa? Oh, scusa, io ho deciso di scappare. No, io ho deciso di partire. E posso portare con me il bue. Cioè, il buaro. Cioè, il bue, quello vecchio. Cosa, Peppi? Perché diamine vuoi un bue di 24 anni? Perché me l'ha detto lui. Lui chi? Il bue. Il bue. Sì. Peppi, io... Peppi, Peppi, mi stai ascoltando? Ok. Io, senti, senti, prenditi quel bue e sta zitto. Grazie. Sì, sì, Peppi, buona fortuna. Me l'ha detto il bue. Il giorno dopo Peppi e il bue erano già in cammino. E in mezzo alla strada beccarono un toro. Un toro che correva e caricava, scalciando e scornando. Quando un toro correva a destra e a manca, ai tempi, l'unica era ammazzarlo. Ammazzatelo, fermatelo, qualcuno l'ammazzi! E in tutto il paese la gente si barricava sperando di non essere scornata. E poi c'era Peppi che ancora non aveva ben capito e si guardava in giro confuso. Scusi, signore, scusi, scusi. Da cosa scappate? Dalla mucca? Il toro, scappa ragazzo, va ammazzato, scappa! Il bue, sotto voce, consigliò a Peppi che cosa dire e che cosa fare. Scusate, a qualcuno dà fastidio se lo tengo io il toro? Nessuno? Tutto il paese a noi va. Sì, sì, fai pure, fai pure. Chissà di chi era il toro, ma chi importava? Se il ragazzo si fosse fatto incornare, forse avrebbe distratto il toro. E mentre un paio di paesani faceva una scommessa per dove sarebbe stato incornato, con narici aperte e zoccoli larghi, il toro caricò il bue. E in due colpi di corna il toro si stancò e Peppi riuscì a legarlo. E poi, come se non la fosse, ripartì a piedi, con il bue e il toro, e lasciò il paese. C'era una volta un re. Un re che aveva fatto una scommessa. Una scommessa con un nobile lord. C'era un pezzo di terra, non diverso da tutti gli altri, e per noia aveva scommesso che nessun uomo potesse far lavorare così tanto i suoi buoi da finire di arare in un giorno solo. Il patto era questo. Chiunque ce l'avrebbe fatta, avrebbe ricevuto due sacche d'oro o la principessa in sposa. Ma, se non ci fosse riuscito, sarebbe stato decapitato. E chi fu così stupido, ma così stupido, da accettare la scommessa? Peppi! Vide il bando appeso al muro, lo strappò e andò a palazzo. Ciao, signor re! Ragazzo, disse una signora, si dice sua altezza. Sì, io sono qui per il bando. Il re capì subito che Peppi non era il più sveglio nella sala. Ragazzo, hai inteso bene il bando? Oh, sì, sì, perché? Figuolo, se ce la fai, se ce la fai, ok, ma se non ce la fai, se non ce la fai, ne va di mezzo la tua testa, hai capito? Lo so, ce l'ha il fieno. Come? Il fieno per il buoi. Certamente, inizierai domani mattina. Al tramonto dovrai aver finito, hai capito? Sì. Il re era convinto che Peppi non avesse capito. Eppure il giorno dopo si mise al lavoro nei campi. Il bue, sottovoce, dava indicazioni allo stupido Peppi. E va di qua, e va di là, attento al tore, poi da capo. Il re, dall'alto del palazzo reale, guardava Peppi che arava e sudava. I suoi consiglieri inizieranno a insistere. Sì, re, perderete la scommessa? Non vedete che quello là sta finendo di arare? E io, re, io che posso fare? Se il ragazzo ha un patto, non posso intromettermi. No, ma potete dargli una bella gallina al forno, con sedano e vino un po' oppiato. E così a mezzogiorno, quando a Peppi mancava giusto un metro di terra da arare, gli venne portata una grassa gallina al forno. Prima che si freddasse, si mise a mangiare e bere, mangiare e bere, e alla fine Peppi si addormentò. E tutto il castello iniziò a camminare in punta di piedi perché non si svegliasse. Alzati, cretino! gridò il bue. Corri a lavorare, che ti tagliano la testa! E tutto intontito, Peppi barcollò nel campo a finire di arare sotto il sole gocente. Fu l'ultimo sforzo per il bue che cade a terra morente. Peppi, ascoltami! Sì, Peppi, Peppi. Sì, sì, ascolto. Senti, Peppi, tu, tu mi dovrai ammazzare. Cucina la mia carne e pianta le mie ossa una ad una nel terreno che hai arato. Hai capito, Peppi? E l'ultimo osso, l'ultimo, mettilo sotto il materasso e vacci a dormire. E fu allora che il bue morì. Signore, signore, scusa, ho finito. Come? Di già, ragazzo? Io, beh, ecco i tuoi sacchi d'oro. Ma io non li voglio i sacchi d'oro, io voglio la principessa. Il re non aveva certo intenzione di dare in sposa a sua figlia un buzzurro ignorante, ma i patti erano patti. E da generazioni la famiglia reale stava ai patti, anche se significava costringere una figlia a sposare un contadino col cervello di gallina. E così si sposarono. Al banchetto mangiarono il bue e Peppi piantò le ossa nel campo arato. La sposa non era affatto felice. Incazzata nera, furibonda! Odiava Peppi, odiava la sua voce, odiava essere costretta e già calcolava come ammazzarlo nel sonno. E mentre cercava di dormire, si rotolava ancora e ancora nelle lenzuola, ecco che le cadde una mela in testa. Ma come? Come una mela? In camera da letto. Allungò il braccio per cercare una candela e trovò uva, un grappolo d'uva, e poi arance, pere, melegrane. Erano tutte così appetitose che iniziò a mangiarle, chiamando Peppi per svegliarlo. Si svegliò tutto il palazzo e tutti quanti trovarono frutta e iniziarono a mangiare. C'erano frutti di tutti i tipi. Dal terreno, quello con le ossa del bue, erano cresciute piante di tutti i frutti, con rami, tralci così lunghi che entravano nei corridoi dalle finestre e invadevano lo spazio con tanti frutti succosi. Aranci, limoni, ciliegie, susini. I principi corsero dalla sorella per chiederle, ma tuo marito come ha fatto? E io che ne so. Ma chiediglielo, dai dai, chiedi, chiedi, chiedi. La principessa tornò in camera da Peppi e iniziò a fargli domande, ma lui, giustamente, voleva solo dormire. La principessa insistette così tanto, ma così tanto che Peppi alla fine le disse tutto tra uno sbadiglio e l'altro. La sera successiva, a cena, il re e i principi erano tutti riuniti. E i fratelli della sposa, vedendo che forse era il caso di farla, decisero di fare una bella proposta a Peppi. Facciamo una scommessa, eh, cognato? Una cosa? Una scommessa, Peppi. Tipo che voi indovinate come ho fatto a far crescere la frutta? Sì, sì, Peppi, tipo quella. Ma tanto non indovinate. Facciamo una scommessa. Se indoviniamo, noi ci teniamo tutto quello che hai. Se sbagliamo, tu vinci tutto quello che noi abbiamo. Sì, sì, mi sembra corretto. Andarono dal notaio e misero tutto l'accordo su carta. Cinque minuti dopo avevano indovinato tutta la storia del bue. E Peppi era infuriato. Come hanno fatto a indovinare tutta la storia? Il bue è morto e i morti non parlano. Il re. Il re forse lo stava osservando. Sì, però lui non aveva visto proprio tutto tutto. Il toro. Magari il toro parlava, ma lui non lo sapeva. Ah, già, l'aveva mangiato. E allora chi era stato? Lui disse che deve essere stato qualcuno di cui mi fidavo. Qualcuno che può sapere tutta la storia fin dall'inizio. Chi può aver detto ai fratelli di mia moglie appena sposata una storia come questa che solo io e lei sappiamo? Ma certo, ma certo, ecco chi mi ha tradito. Il sole. E così Peppi decise di andare dal sole in persona. Camminò verso est per un paio di giorni finché non incontrò un'eremita. Scusi per il sole di qui? E l'eremita gli disse di procedere dritto. Fino a un altro eremita. Vecchio, vecchio, con la barba lunga, lunga. Raggiunse l'eremita barbuto e la sua capanna. E anche questo eremita gli disse di andare dritto, dritto, fino al prossimo eremita ancora più vecchio di lui. Peppi raggiunse il terzo eremita che gli diede uno spillo e gli disse di camminare ancora dritto fino al leone. Arrivato al leone, lo trovò che piangeva disperato. Ciao leone, perché piangi? Oh, 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 una spina, oh, una spina. Oh, una spina? Dove? Qui, qui, la zampa, la zampa. Oh, ciao, zampa. Oh, non sai che dolore. Non lo so se ti interessa, ma se vuoi ho uno spillo e posso usarlo se vuoi. Solo se vuoi. Fai quello che vuoi, ma levala, levala, disse il leone. Sai, la mamma faceva la farta, usava uno spillo per togliersi le spine. Faceva così e così e lo spillo non c'è più. E il leone fece un sospiro di sollievo senza eguali. Grazie, ragazzo. Ma io faccio paura a tutti. Perché tu non hai paura? Tu lo sai dove è il sole e gli devo chiedere una cosa. Dritto a est. Troverai il mare e prima dell'alba un serpente uscirà dall'acqua. Digli che vuoi parlare col sole e che ti mando io, capito? E Peppi partì. E prima dell'alba arrivò al mare. Appena il cielo divenne rosa, un serpente emerse dall'acqua. Era un serpente gigantesco, con grandi ali di piume bianche. Ciao serpente, mi porti dal sole e mi manda il leone. Perché tu, mortale, vuoi parlare col sole? Perché mi ha tradito e voglio dirgliene quattro. Come? Oh beh, presto, buttati sotto le mie ali, altrimenti il sole ti può bruciare. Vieni con me e ti porto da lui. Il serpente portò Peppi fino al sole. E finalmente Peppi gli parlò. Traditore, brutto bastardo sole. Solo tu mi potevi ingannare, monello. Il sole era un luminoso, giovane, biondo, con un mantello dorato che guidava un carro, trascinando una grossa palla di acciaio rovente, che è la palla che noi vediamo che è il sole. Io? Io non ti ho fatto proprio niente, Peppi. Sai chi ti ha ingannato? Tua moglie. Mia moglie. Ma lei mi ama tanto tanto. Perché trattarmi come se fossi stupido? Peppi, perché sei venuto fino al sole a cercare una risposta? Peppi non disse nulla, poi parlò. Scusa, ma sole, c'è una cosa che puoi fare per me? Tramonta mezzanotte stanotte, solo per una volta. Va bene, disse il sole. Peppi tornò a casa e a cena disse ai cognati. Fattiamo un'altra scommessa? I cognati si misero a sghignazzare. E che scommessa facciamo? Scommettiamo a che ora tramonta il sole? Eh, sì, a patto che noi proponiamo per primi. Eh, va bene. I cognati si consultarono. Sapevano a che ora il sole era tramontato ieri. E a che ora ogni altro anno il sole era tramontato in quel giorno. Fecero una stima e alla fine dei calcoli dissero a Peppi. Secondo noi il sole tramonterà alle nove in punto. Secondo te, Peppi? Oh, ma se voi avete detto le nove non posso anch'io, vero? Eh no, Peppi, non si può. Allora io dico mezzanotte in punto. I cognati si misero a ridere, ridere, risero e risero. E allora? Allora cosa scommettiamo? Non lo so, non è che mi resta molto, eh? Che ne dici? Se indoviniamo ci teniamo anche tua moglie. E se non indovino? E se indovino io? Voi mi lasciate le mie cose. Ma sinceramente ti lasciamo anche tutto il castello. Se indovino? Sì, se indovini. E va bene. Quella notte il sole non tramontò alle nove. Nemmeno alle dieci. E a mezzanotte i principi si erano già mangiati tutte le unghie. A mezzanotte il notaio firmò. Peppi aveva vinto la scommessa. Il sole era tramontato a mezzanotte. I principi dovettero cedere tutto quello che avevano. Dovettero dare tutto quanto al povero Peppi. Erano così infuriati. Ma Peppi, per consolazione, lasciò loro due sacchi d'oro e la bella moglie. Il re rise così tanto, ma così tanto, che prese Peppi e gli disse mai scommessa fu più interessante e mai scommessa fu più esilarante. Tieni, tieni trono e corona. Peppi il Boaro ti proclamo re Uzzo. E io me ne vado in pensione. E io me ne vado in pensione.